Ma buonasera miei piccoli geni, sono nel mio meraviglioso secondo canale con sei iscritti per farvi vedere una cosa molto interessante. Questo canale era stato creato perché ai tempi YouTube e Google Plus erano una cosa sola e vabbè, questo è successo, mi sono ritrovata con un altro canale di cui non me ne faccio niente, ma in questo caso è molto utile per farvi vedere come funziona la modalità restrizioni su YouTube, come anche tutti quelli che fanno video e guadagnano anche fior di soldi e si siano un po' incavolati, che tra l'altro è una modalità che c'è sempre stata, ma sembra che sarà introdotta ancora di più secondo altri criteri, per farvi vedere come funziona e che cosa succede. Allora, qui c'è la modalità con restrizioni disattivata, quindi se io digito il nome del mio canale oltre a uscire il mio canale, uscire i miei video, esce il famoso video della cattonista e vi farò vedere la magia, la magia nel momento in cui io abiliterò invece le restrizioni. voilà scomparso, non è nulla, è stata una magia, quindi inutile inserire 10.000 pubblicità a video, inutile avere sempre questo linguaggio sboccato e a volte anche offensivo perché nei video di questo professore di vita c'è tanta roba discutibile e spero che youtube farà veramente pulizia perché non se ne può veramente più al di là di questo povero cattonista se io vado a digitare il nome di uno famoso, di questo ragazzo molto figo ma che dice tante di quelle parolacce che è non solo praticamente con la modalità restrizioni scusate non appare neppure un video e mi sembra anche normale quindi mi dispiace per tutti quelli che stavano racimolando spicci su youtube ma se andiamo avanti di questo passo veramente ci sarà una bella pulizia e io sono veramente contenta, sarei ancora più contenta se ciò avvenisse senza attivare la modalità restrizioni che comunque non so se l'ho già detto perché ormai l'età avanza però già esisteva, quindi già si poteva attivare adesso sembra che appunto ci sarà qualcosa di diverso anche senza attivarla e quindi non lo so, a questo punto io suggerirei al nostro professore di vita di fare qualche altra campagna particolare di promozionale, di donazioni o non lo so che altro perché insomma ce n'è veramente bisogno, youtube ci sta poicottando e niente, di questo passo andremo tutti a spasso saluto chi attiva AdiBlock detto questo vi saluto e alla prossima